E forse per questo bellissimo slogan che abbiamo scelto come primo relatore Lucia Annunziata, ripeto è già stata tante volte qui parlando anche di comunicazione politica internazionale, se ricordo bene mi pare che l'insegnamento di Marta Dassu era questo, oggi viene nella veste storicamente più nota di giornalista, di ex presidente della RAI e quindi diciamo non potevamo trovare un soggetto più rappresentito io, ricordo che noi non chiameremo mai persone della RAI a parlare della RAI, lo faremo magari indirettamente, parteciperanno al dibattito ma per le relazioni di apertura ci sembra che ci debba essere un elemento di distinzione e di alterità, chi sta dentro è chiaro che non ha la distanza giusta per vedere i processi dal punto di vista del pubblico e quello invece è il punto di vista che noi vogliamo frequentare. Grazie, subito la parola a Lucia Annunziata, se vuole venire un applauso a Lucia Annunziata, sono contento. Nello spirito positivo di questa riunione qui ho una notizia positiva e una notizia negativa sul servizio pubblico. La notizia positiva secondo me è che il servizio pubblico se vi guardate intorno e guardate al grande crollo degli ascolti ma anche alla grande caduta di alcune firme giornalistiche che non ne hanno guadagnato per essere espliciti dall'andare via dal servizio pubblico, pure in queste acque molto agitate dimostra essere un'azienda unica sul mercato dell'informazione e io di questo sono sempre stata convinta, infatti nel bene e nel male o uscivo o stavo lì, non sono mai andato in nessun'altra televisione. Quello che la RAI ha, cioè il servizio pubblico ha, ha una specie di reputazione buona, una specie di autorevolezza che è dentro, proprio costruito dentro la percezione del servizio pubblico, sarà perché i cittadini la pagano, sarà perché è al centro comunque di quello che il paese dibatte, sarà perché è abituata dagli anni della RAI a dire lo ho sentito in televisione, il servizio pubblico nonostante tutto se voi guardate tutte le altre reti si mantiene un suo nucleo di autorevolezza persino quando va male, l'autorevolezza come sapete è un bene immateriale, potremo discutere molto tempo su capire perché ce l'ha o non ce l'ha ma ce l'ha, chiunque è uscito dalla RAI per andare in altre reti non ha fatto tanto bene quanto le altre reti, persino quando gli ascolti erano buoni, per dirvela più francamente Michele Santoro che io non volevo che andasse via assolutamente è andato lì sulla 7, ha fatto grandi ascolti ma secondo me pesava e questo lo dico a lui, non è un dibattito tra noi, non è un pettegolezzo, quanto ha pesato nel determinare la costruzione dell'informazione italiana dentro la RAI, non ha pesato neanche quando ha fatto tremendi e positivi esperimenti tipo quelli su internet, tipo quelli di costruirsi nuove serate, costruire nuove persone, perché dentro la RAI c'è questo nucleo immateriale della reputation, come tutti quanti sanno lo dico all'inglese perché nelle aziende inglese la reputation è considerata un valore immateriale ma da calcolare. La cattiva notizia è che è proprio vero la RAI meno degli altri ma tutta la televisione generalista sta perdendo ascolti a rotta di collo, è vero, è dovuto a un fatto molto semplice, è dovuto alla moltiplicazione dei mezzi di informazione o di comunicazione, è vero che sotto i 20 anni, questo è proprio garantito ma in verità anche sotto i 25, la televisione non si vede più, oppure se si vede si vede on demand su internet. Non dico che la televisione su internet è la sostituzione della televisione via terra, diciamo, perché in verità la televisione generalista su internet perde, è proprio un modo diverso, cioè moltissime società hanno fatto una televisione generalista 24 ore su 24, tipo quella alla RAI o altre reti, su internet e quella non funziona. Su internet l'uso della televisione ha cambiato, l'uso dei video dovrei parlare, ha cambiato profondamente senso nel guardare la televisione ed eventualmente impatterà sul modo con cui anche si formula la televisione generalista. In generale internet è la vera minaccia, lo dico in maniera positiva perché oggi io sono il direttore dell'Huffington Post, della televisione in generale, nel senso che internet, lasciate perdere, non è un mezzo, come si dice la radio, la televisione, che si aggiunge agli altri, internet è la nuova industrializzazione, è la quinta industrializzazione che come tutte le industrializzazioni, come quando venne la ruota, come quando venne il motore a vapore e robe di questo genere, cambia il sistema intero di produzione. Quindi internet che oggi già raccoglie tutto il mondo delle comunicazioni dovrà essere, guardatelo perché è su quella parte lì che noi avremo la riformulazione dell'informazione. Cerco di essere breve, vi dico sulle idee di cambiamento, non voglio entrare sulla questione dei contenuti perché altrimenti secondo me si entra troppo anche nella politica, il discorso va molto avanti, insomma il discorso sui contenuti in Italia è sempre stato molto politicizzato, quindi dovremmo prendere un lato, una direzione molto diversa. Non entro nella questione della caduta di ascolti dei talk show, uno perché penso che sia relativa perché parte del crollo generale, due perché penso che è spiegabile col fatto che la classe politica attuale non è una classe politica su cui puoi costruire tante prime serate. Dicevo prima al presidente Zaccaria, dal me sempre ancora chiamato presidente, noi in fondo siamo come dei bottegai, i giornalisti che coprono la politica in televisione, se non hai qualcosa di buono da vendere, un buon prodotto, in questo caso il politico che è appeso, diciamo una classe politica che è appeso a parola e conta e è difficile che costruisci sul nulla un po' la crisi della politica, dell'elite, delle classi dirigenti e si trasforma anche nella crisi di chi dovrebbe raccontarli come talk show. Quindi su questo non vado, vado invece sulla questione delle cose da fare, la proposta. C'è una proposta sul terreno che è venuta un po' strisciante, avanti in Rai, che secondo me è stata probabilmente respinta forse troppo presto o forse presentata troppo bruscamente o forse male ed è la storia di ridurre a due reti la televisione. Siccome tutti quanti continuano a dire BBC, 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 è un dato di fatto che la BBC ha fondamentalmente due reti e poi ha tutta un'altra serie di reti che sono, una volta erano su cavo, poi sono stati digitali e oggi sono su internet sostanzialmente. L'idea di ridurre la televisione italiana a due grandi reti a me non dispiace, è una grande rivoluzione ma la trovo, certo fa male molto alle forze lavoro, bisognerà ricostruire tutta la struttura di produzione della Rai eccetera, però ha senso. Due reti intese come due reti in chiaro che hanno poi degli spin off su internet, una rete che sia una rete di intrattenimento, i film, i bambini, i racconti, le fiction e tutti i grandi documentari, tutte le grandi cose che sappiamo della BBC, è una rete di informazione. Naturalmente è troppo poco voi direte, no, se le due reti in chiaro sono solo la grande vetrina che tu scegli ogni giorno per il pubblico in chiaro. Dentro queste reti ci sono una serie di spin off che sono invece i vari altri approfondimenti. Mi spiego, se io vedo un telegiornale di mezz'ora e vedo tre minuti di tutti gli argomenti, tre di economia, tre di esteri, tre di costume, tre di cultura e poi avanti un altro. Quello è tutto quello che vedo. Se invece i tre minuti di esteri, facciamo proprio la questione di adesso, sono il meglio di una giornata di un settore che poi invece continua a vivere 24 ore su 24 sul canale news internazionali di internet. Questo è la combinazione di un approfondimento reale, vero, perché internet poi è una cosa seria, ci può entrare dentro, è profondo, dura, è virale, può intervenire, può integrare con altri servizi eccetera eccetera, che va a finire, la parte migliore della giornata, la notizia più importante, va a finire in chiaro. In questo senso vale per l'intrattenimento, per il teatro, per le cose, cioè secondo me ci sono due reti grandi, che sono la grande vetrina in chiaro e le reti internet, che sono invece l'approfondimento continuo, live, in tempo reale, quello che è internet, di tutto quello che succede nelle varie discipline, nelle varie materie, nelle varie storie, nelle varie realtà che puoi raccontare. Io penso che questo è il futuro, peraltro voglio dire, quando parliamo di BBC, parliamo di una cosa, la BBC oggi è la più importante fonte di informazione nel mondo, anche lo sassone, badate bene, incluso buona parte anche di quello americano, sicuramente quello di lingua inglese nel mondo, su tutte le piattaforme, i telefonini, internet sul tavolo, tablet, tutte le forme possibili, immaginabili di informazioni che non siano proprio fisse nazionali, la BBC è il numero uno di informazione, cioè oggi un contenuto vive per sempre sulla rete, non vive necessariamente sulle reti in chiaro. Quindi io penso che la RAI dovrebbe avere l'ambizione, smettere di avere paura di internet, perché io lo so, quando sono passata all'Huffington Post, che c'avevo? C'avevo mezz'ora e facevo poi l'editorialista della stampa, ti ricordi Marcello, di questioni estere. questo lavoro che ho lasciato era, così, facevo un pezzo al mese, due pezzi al mese su oscure situazioni estere, qualche volta andavo in prima pagina, qualche volta no, quindi era di fatto un lavoro, diciamo, minimo, però il titolo era grosso, quando ho lasciato per andare all'Huffington Post tutti mi hanno detto ah ma come lasci un titolo, un tale prestigio? Io dicevo ma veramente non era, non facevo quasi nulla, c'è ma internet, come dire, era un modo imbarazzante, venivo guardato due anni fa, salto nel vuoto. No, non è il salto nel vuoto, c'è l'idea che internet è un fondo imposto per cretini, no, cioè solo i cretini, gli incapaci, quelli che sono falliti, quelli lì che non sanno trovare un bel lavoro vanno a finire su internet, invece secondo me il discorso vero che la RAI deve affrontare nella propria ristrutturazione è prendere e tuffarsi di testa nel mare internet, è capire che quello è il luogo dove tu ristrutturi proprio la tua, non dico solo la tua informazione, anche la tua capacità di raggiungere nuovi utenti di nuova età con nuovi linguaggi, pensate solo internet che cosa significa per tutti gli italiani nel mondo che vedono la televisione, che oggi ho finito, devono ancora andare a prendersi l'antenna eccetera eccetera, vi do un dato, l'Huffington Post italiano il 10% della sua circolazione, dei suoi utenti, noi facciamo dati di giugno 330 mila utenti unici al mese, andiamo su 7 milioni di utenti unici, sono qualcosa come 30 milioni di pagine visite al mese, noi siamo piccoli, pensate internet che i numeri di internet sono enormi, ma soprattutto sono globali, ebbene di questo piccolo numero il 10% viene dall'estero, sono gli italiani in Inghilterra, gli italiani in Francia, pensate questo applicato a un modello produttivo con i contenuti che ha la RAI e questo è il luogo dove si deve buttare, deve guidare la rivoluzione industriale per poter pensare di continuare a essere servizio pubblico.